Votre faiere per un tiro 3, 6, 6. 5.. No, 2! Non vai così. Fa' un inserpero che c'era Q1 cuando c'era una ventrotha al wide ar shades.. 7.. 19.. 3.. C就是 Queen King, grazie 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 e quindi a questa maggior parte della quale si inseriamo, fino a oggi. Io, solo per chiarezza, se il signor Comunale ho l'intensità, capisco, in senso che i dati si chiedono come da questo suo intervento per il suo comando di sotteggio, perché sicuramente si sta sottoggiando troppo sull'ambiente che si risolvono i comuni, però la legge, come dice, è come le posizioni dei comuni, ci dice che bisognava tardi, che è quello che è ovvio, che ha le proprie sottosezioni, quindi non è diverso. Vogliamo sempre tornare tutti, voglio aggiungere la giusta e quindi voglio ricordare di ciò che facerà il consigliere Nostrano alla parte del segretario in maniera abbastanza ampia che...